Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Questa sera faremo una chiacchierata sui fantasmi come avete potuto vedere dal titolo e la faremo con Maurizio Cusani che ha raccolto testimonianze ed esperienze su questo argomento per un libro che sicuramente prima o poi verrà edito e in questa chiacchierata scopriremo che in realtà i fantasmi non sono poi così sconosciuti, appartengono all'immaginario collettivo ma appartengono alla nostra esistenza fin dall'antichità. E niente non aggiungo altro perché per chi vorrà potrà vedere il video e buona visione. Ciao. L'abbiamo così deciso di farla perché parlando con Maurizio tempo fa è venuto fuori che adesso non mi ricordo il motivo il discorso preciso da cui è partito però che si parlava di fantasmi innanzitutto si diceva io ho detto io credo nei fantasmi e Maurizio ha detto sì infatti i fantasmi esistono e poi così parlando è venuto fuori che si manifestano per esempio nelle case solo agli ultimi piani e io ho riflettuto ed effettivamente laddove io ho avuto queste manifestazioni ero a un ultimo piano in effetti. Quindi poi da lì è iniziata la cosa e abbiamo detto ma perché non facciamo una serata in cui tu parli di questo argomento, di quello che sai, di quello che pensi compatibilmente con quello che puoi dire perché so che hai scritto un libro che però deve ancora trovare una sua collocazione quindi magari non racconterai tutto però insomma quello che vuoi lui ha accettato molto gentilmente ed ecco perché siamo qua. Allora il problema è abbastanza semplice la storia è iniziata 15 20 anni fa quando ero in vacanza sull'isola Piana che è un'isoletta che è posta fra Carloforte, Sant'Antioco e la costa sarda del sud ovest e dove ho fatto per molti anni diverse vacanze, avevo anche una casa, un tempo e quant'altro lì, conobbi tra le altre persone un giornalista di Roma, un certo Massimo Biondi, una persona molto colta, molto simpatica che tra l'altro era molto interessato allo studio scientifico del paranormale. Quindi su questo argomento abbiamo passato tantissime giornate, tantissime serate di grandi chiacchierate, finché siamo arrivati a parlare di fantasmi. Lui tra l'altro aveva dei collegamenti col CICAP, che è quell'organizzazione che cerca di studiare in modo molto scientifico tutto ciò che riguarda il paranormale. E che solitamente boccia un'enorme quantità di cose che sono oggettivamente fasule o simulazioni o truffe addirittura oggettivamente. Parlando di questi argomenti arriviamo a parlare di fantasmi, parlammo delle nostre esperienze, delle esperienze di nostri amici e quant'altro, e pian piano decidemmo che questo era un argomento intrigante, interessante, che poteva essere affrontato. E quindi abbozzammo un libro a quattro mani, appunto, che aveva un titolo provvisorio, inchiesta sui fantasmi, sostanzialmente. All'epoca io avevo già rapporti con diverse case editrici, perché avevo già, come dire, pubblicato diversi testi con Armenia, con Red, con Nuova Ips e quant'altro. E quindi, mentre noi intanto incominciamo a scrivere questo libro, che non ebbe mai un compimento totale, presentai le bozze di questa ipotesi libraria alle case editrici, le quali fecero un lavoro di marketing, come sempre fanno, per valutare l'opportunità della pubblicazione in base alla vendibilità della questione. E io, con stupore, scoprì che fu bocciata questo progetto, perché i testi pochi che erano stati pubblicati sui fantasmi non avevano avuto un riscontro di interesse al pubblico, e c'era poco interesse del pubblico rispetto all'argomento fantasmi. Per cui, in realtà, questo libro poi non fu mai proseguito e non fu mai completato, e non fu mai pubblicato, insomma. Questo è un po' il discorso. Abbozzo quindi un po' quello che noi, in qualche modo, tirammo fuori da questo argomento, e il discorso sarebbe estremamente lungo, ma questa è una chiacchierata giusto per dare dei flash a riguardo, e scoprimo sostanzialmente diverse cose intriganti. La prima cosa è che le persone si dividono in due grandi categorie. Quelle che non credono ai fantasmi, ritengono che siano sostanzialmente delle simulazioni, delle truffe, delle fole, delle favole senza alcun costrutto, o addirittura degli esempi di patologie psicologiche o psichiatriche, nevrotiche o psicotiche, delle varie persone che attribuiscono questi fantasmi a qualcosa di reale, il che talvolta è anche vero, perché esistono effettivamente delle forme nevrotiche e psicotiche che comportano la visione di immagini fantasmatiche, e le persone invece che ci credevano anche perché avevano avuto esperienze dirette o indirette di queste immagini sostanzialmente. E scoprimo anche che era diffusissima questa sensazione, cioè erano tantissime le persone che nella loro vita avevano avuto almeno un episodio di incontro con fantasmi o che avevano avuto comunque relazioni dirette con persone che erano state direttamente coinvolte da queste situazioni. Soltanto che poi non ne parlavano proprio per evitare di essere ritenuti dei neurotici o degli psicotici o quant'altro. Ma in realtà moltissime erano le persone che avevano avuto, diciamo, esperienze di questa natura. Esperienze di questa natura che tra l'altro possono essere divise in tre grandi categorie. senza sensazioni, senza particolari visioni di immagini vere e proprie. Questa è la prima categoria. Una seconda categoria in cui c'era l'immagine di qualche cosa di particolare che appariva nell'orizzonte, nel campo visivo del soggetto e poi spariva. E una terza fase in cui c'erano proprio delle apparizioni quasi in carne ed ossa, per cui il soggetto poteva tranquillamente essere scambiato per una persona vera e viva e vegeta. L'unico elemento era che questa immagine non gradiva avvicinamenti e non gradiva essere toccata, non veniva a essere toccata. Questi sono elementi cardine in cui cominciamo a costruire un po' il nostro canovaccio. Il secondo elemento interessante era che, per quanto riguarda i fantasmi e le case infestate dei fantasmi, esisteva oggettivamente, complessivamente, uno stato di disagio da parte delle persone rispetto all'esperienza dei fantasmi e delle case infestate dei fantasmi, a tal punto che, per esempio, banalmente, quando si parla di fantasmi, ci sono stati tantissimi libri o film che hanno parlato di queste figure malefiche, sostanzialmente, pensate anche alla saga dei Ghostbusters, o libri e film sulle case infestate, sui fantasmi, in termini sostanzialmente malevoli. Addirittura, io che amo molto il sufismo, sono molto legato al mondo dei sufi e così via, posso raccontare una storia sufi che parla del rapporto con i fantasmi di un bambino, di un Nasruddin bambino, il quale deve andare a scuola tutti i giorni, ritorna da scuola a casa tutti i giorni lambendo i confini di un cimitero. E siccome lambisce i confini di un cimitero, teme che in qualche modo dai morti possono nascere degli zombie, dei fantasmi che lo possono intimorire. Per cui a un certo punto chiede alla mamma, mamma, ma io ho paura di andare a scuola perché ho paura che mi compaia un fantasma da un momento all'altro. E la mamma, per tranquillizzarlo, gli dice, non deve avere paura a Nasruddin perché i fantasmi hanno più paura di te quando tu dovessi incontrarli. Quindi nel momento stesso in cui tu dovessi incontrare un fantasma, sappi che il fantasma ha più paura di te di quanto tu non abbia nei suoi confronti. E quindi il piccolo Nasruddin è abbastanza tranquillizzato da questa frase, salvo che poi ribatte. Ma se anche questo fantasma ha una mamma? Il che costituisce due elementi fondamentali. Il primo elemento è che queste storie sufi, come sappiamo, non sono solo facettie, ma sono in realtà delle istruzioni, delle modalità di istruzione per quanto riguarda il rapporto con il quotidiano e con il sopramontano, da una parte, e dall'altra che comunque è ufficiale, oggettivo, che l'idea del fantasma è qualcosa che impaurisce la gente. Invece abbiamo scoperto, Massimo, Biondi e Dio, che raccogliendo tutti l'anedottica personale, o comunque che in qualche modo era alla nostra portata di amici, persone che comunque erano state rappresentative, erano state confermate come persone sane e comunque equilibrate e quant'altro, non è mai, mai, mai successo che quando appare un fantasma egli possa danneggiare la persona che lo vede. Non è mai successo questo. Tutte le volte che noi vediamo un fantasma, egli non ci può fare assolutamente nulla e non capita nulla di male a chi vede il fantasma. Ma qualcosa è successo. Qualcosa di negativo probabilmente è successo, non alla persona che vede il fantasma, ma a qualcuno o qualche cosa che in qualche modo, direttamente o indirettamente, è legato alla persona che vede il fantasma e poi farà una serie di esempi riguardo. Questo è stato il primo elemento fondamentale. Gli fantasmi non ci possono e non ci devono far paura perché quando vediamo un fantasma non ha a che fare direttamente con noi, quindi non ci può assolutamente danneggiare questa cosa, però è probabilmente, ha creato un problema, ha danneggiato qualcuno o qualcosa che è collegato con noi in modo diretto o indiretto. Il secondo elemento fondamentale, cioè legato appunto alle case infestate dai fantasmi, è che quando uno entra in una casa infestate dai fantasmi esiste un minimo comune denominatore. Cioè tutte le volte che noi abbiamo delle case infestate di fantasmi abbiamo sempre a che fare o con l'ultimo piano o con ville che hanno dei tetti particolari, particolarmente aguzzi, molto convessi sostanzialmente, in cui questi suoni o queste visioni e così via avvengono comunque essenzialmente in momenti particolari dell'anno e in zone particolari vicine al sesto acuto della villa stessa, il che fa pensare a delle forme di energia. Quindi nel primo caso evidentemente il fantasma suscita un elemento che proviene o dall'esterno o dall'interno del soggetto che le vede, ma che non lo riguarda direttamente e con riguardo soprattutto lo stato di equilibrio, lo stato di salute. Il secondo elemento è che le case infestate dai fantasmi sono probabilmente dei fenomeni sconosciuti di tipo energetico che avvengono in particolari stati di elettricità dell'aria, di umidità particolare e di localizzazioni dell'ambito della casa. Tutti elementi questi che dovrebbero essere quindi studiati convenientemente. E su cui ci fermiamo, perché a questo punto, proprio perché Massimo era un soggetto che tendeva a studiare il paradornale in termini scientifici, bisognava poi proseguire a raccogliere una serie di aneddoti che prevedevano per vedere se c'erano altri elementi in comune che potevano essere studiati convenientemente per proseguire il discorso. Però per far capire un po' il concetto di come noi avremmo immaginato questo canovaccio del libro, devo quindi continuare a spiegare, a evidenziare una serie di aneddoti che in qualche modo, inedoti verificati, controllati, falsificati e quant'altro, hanno destato anche in noi la necessità di creare come una specie di classificazione di queste forme fantasmatiche. Al primo elemento, il primo esempio, tutti esempi assolutamente reali, realistici e perfettamente controllati, è di una forma di sensazione. Il caso fu di una coppia di medici, di colleghi, uomo e donna, marito e moglie, che a un certo punto decidono di comprare casa e vanno a visitare ovviamente diverse case nella zona di loro interesse. Capita in una casa intrigante e interessante, il collega si mette a parlare, entrato in casa, con il soggetto dell'agenzia che sta illustrando come è questa casa, il prezzo, i vincoli e quant'altro, mentre la collega donna si avvia direttamente verso la casa ad esplorarla da sola finché arriva in una certa stanza. Arriva in quella stanza e improvvisamente la si sente sussultare e fuggire via, e fuggire via, dicendo no, 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 andiamo, andiamo via, no, in questa casa sussultamente, in questa casa no, esce di casa e che il collega la raggiunge sulle scale, dice qualcosa è successo, ho sentito una sensazione sgradevolissima in cui è successo qualcosa di terribile in quella stanza e non possiamo assolutamente comprare questa casa. Per cui la signora poi scende le scale e la aspetta in macchina mentre il marito naturalmente si mette a spiegare la situazione a questo agente della vendita di casa e gli spiega che la moglie ha avuto questa sensazione in quella data particolare stanza e questo agente sbianca. Perché? Perché effettivamente tre mesi prima un medico che era il proprietario di questa casa ed era un medico anziano in pensione handicappato in quella stessa stanza da cui la collega era fuggita era stato strangolato dalla colfa e quindi c'era stato proprio un omicidio oggettivo che era avvenuto in quella stessa identica ed esatta stanza dove la collega era assolutamente scappata. Ora in questo caso non c'è stata una manifestazione fantasmatica la collega non aveva visto un fantasma non aveva avuto una visione delle cose si era sentita strangolare si era sentita soffocare e aveva capito che in quella stanza era successo qualche cosa di terribile ma non sapeva che ci sarebbe c'era stato effettivamente uno strangolamento non sapeva che un collega era stato assassinato e non sapeva che degli eventi che tre mesi prima erano avvenuti in questa casa. questo è un primo esempio di sensazioni particolari che fanno capo a questa cosa di fantasia perché il soggetto non aveva visto nulla ma si era sentito come dire stringere il collo e soffocare ha avuto queste sensazioni particolari questo è il primo il primo momento di categorizzazione di questi di questi eventi il secondo evento invece è qualcosa di più come dire consistente perché inizia a esserci una certa visione e anche qui di aneddoti ne avrei veramente tanti mi soffermo semplicemente su due esempi il primo esempio è quello di una signora che va a letto a dormire mentre il marito è fuori fuori città perché fa il commesso viaggiatore e mentre dorme improvvisamente si sveglia perché si sente accarezzare la guancia si sente accarezzare la guancia quindi si sveglia e vede una mano e solo una mano che l'ha accarezzata e che pian piano si disgrega e scompare e riconosce in questa mano la mano del marito e soltanto il giorno dopo viene a scoprire che il marito in quell'ora aveva avuto un incidente automobilistico mortale tale per cui era scomparso e quindi in qualche modo questa visione di questa mano che la carezzava sembrava essere come un ultimo saluto che il marito appunto faceva alla moglie essendo andato in un'altra dimensione sostanzialmente questa è già una categoria già più complessa dove noi assistiamo oggettivamente a una visione di qualcosa una visione di qualcosa di semplice da mano che tende a essere molto effimera molto fragile che si disgrega in pochi pochi secondi cinque sei sette secondi appare e scompare contemporaneamente questi esempi possono essere molto più prolungati perché per esempio c'è l'esempio di una signora la quale è sul letto di morte e ovviamente soffre molto per uno stato di malattia che tra l'altro la porta anche una forte depressione e costituisce ovviamente per tutto i familiari una preoccupazione seria sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista clinico e improvvisamente questa signora due giorni prima di morire splendida splendente appare in una situazione psicologica completamente diversa allegra divertente equilibrata tranquilla che sopporta piacevolmente tutto quello che succede perché perché durante una particolare mattina appare alla sua visione completa la cognata che era morta dieci anni prima la quale gli racconta la rava e la fava sulla famiglia e quant'altro tranquillizzandola sul futuro e dicendola tranquillamente che fra esattamente 48 ore sarebbe venuto a riprenderla per portarla in un luogo molto piacevole e molto dolce e questa signora quindi tranquillizzata da questa visione che era durata diverse minuti perché c'era stato un lungo colloquio di 5 10 15 minuti alla sua memoria era completamente trasmutata nel suo aspetto psicologico e infatti 48 ore dopo andò a morire in piena tranquillità psicologica in questo caso l'esempio dell'apparizione fantasmatica fu un'apparizione molto più lunga molto più 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 consistente anche se siamo in una situazione di letto di morte in una situazione in cui il soggetto è comunque evidentemente preso da una componente clinica importante che poteva avere chiaramente sconvolta alcuni centri cerebrali per cui poi è difficile dirimere la questione psicologica clinica ed equilibrio oggettivo di un soggetto sano per quanto riguarda invece soggetti assolutamente sani ed equilibrati si entra in contatto con un altro tipo di categorizzazione di apparizione particolare che è molto famosa nel nord Europa nei paesi scandinavi ed è meno importante e meno nota nei paesi mediterrani che si chiama Vardegre il Vardegre è un fenomeno fantasmatico molto particolare ma ripeto molto diffuso nei paesi scandinavi al punto che io per esempio che ho avuto una fidanzata di Stoccolma quando ero molto molto giovane lei rammentava episodi di questo genere da parte soprattutto delle popolazioni laponi dei sami che tra l'altro vengono visti un po' con la puzza sotto il naso dall'alto in basso dagli svedesi che si sentono un po' sopra categoria ma anche un'amica di Göteborg che raccontava fatti di questo genere legati a familiari che vivevano talvolta per molto tempo in isole del Mar Baltico in luoghi quindi molto isolati e sconosciuti e quant'altro ma rammento anche il caso di una mia amica che il padre era norvegese che raccontava diversi episodi di questi Vardegre e che da noi invece nei nostri climi sono relativamente rari questi episodi di Vardegre sono episodi in cui il soggetto vive in ambienti molto isolati in cui c'è molto spazio di distanza fra sé e altre persone e dove sostanzialmente avvengono fenomeni di déjà vu all'incontrario il Vardegre è un déjà vu all'incontrario il déjà vu è un fenomeno per cui io entro in un certo ambiente e ho la sensazione di averlo già visto di esserci già stato sostanzialmente è una cosa molto comune ed è una cosa che può essere anche patologica perché ci sono casi di nevrosi e casi di psicosi che comportano il famoso déjà vu il Vardegre è esattamente l'incontrario cioè io non sono in un posto dove ho la sensazione di essere già stato ma semplicemente avviene un evento che anticipa talvolta di giorni quello che sto vivendo in questo momento che non esiste e l'esempio che ho è un esempio abbastanza straordinario di un collega il quale sostanzialmente ha avuto un fenomeno di Vardegre con una signora veneta il collega era un lombardo e ebbe questo fenomeno di Vardegre senza avere la minima idea di cosa fosse un Vardegre un fenomeno di Vardegre con questa signora veneta che aveva un cognome scandinavo e la cosa è abbastanza curiosa insomma e l'evento fu questo lui visitò visitava ovviamente i vari pazienti durante il corso della giornata e un fine settimana ormai molto stanco l'ultimo paziente era rimasto solo nello studio e così via improvvisamente e inopinatamente suona il campanello e si presenta una paziente che egli già conosceva quella paziente col cognome scandinavo la quale chiede per favore di essere visitata anche senza appuntamento perché aveva bisogno di fare questa visita il collega quindi la accetta di visitarla essendo ormai da solo ultima paziente e quant'altro pur essendo stanche e quant'altro e esegue questa visita anche se ha una sensazione strana perché questa paziente non si avvicina troppo a lui non si fa toccare proprio per tenere una prossemica molto ampia e si fa comunque visitare esattamente del problema che ella ha dopodiché altra cosa straordinaria chiede la parcella e il collega gli dà la parcella la signora paga in contanti con due banconote in contanti che lascia sul tavolo la saluta il collega senza toccargli la mano senza nulla e se ne va e se ne va tranquillamente il collega l'accompagna questa paziente alla porta ritorna in studio e sul tavolo dove erano state messe le due banconote le due banconote erano completamente sparite non c'erano più per cui si mette lì a cercare dove diavolo ha messo queste banconote però è stanco e oggettivamente non ce la fa più dice domani domani la ritroverò sostanzialmente l'indomani al sabato per la domenica poi quindi ovviamente non va in studio a lavorare e così via il lunedì va in studio cerca queste due banconote e non si trovano queste due banconote e vabbè la cosa sembra finire lì tranquillamente salvo che il martedì mattina riceve una telefonata da parte di questa paziente per cui immediatamente appena sente questa paziente al telefono dice probabilmente si è dimenticata di lasciarmi la parcella oppure mi deve chiedere qualcosa rispetto alla visita che abbiamo fatto venerdì no la paziente chiede di fare una visita entro la settimana perché guarda caso capita in città fra qualche giorno e quindi sente la necessità di essere vista fra qualche giorno in appuntamento il collega resta un po' perplesso di questo perché l'ha appena vista venerdì però visto anche che c'è questo questo discorso delle due banconote che sono scomparse accetta di vedere questa paziente e la vede poi il mercoledì cioè due o tre giorni dopo la paziente due o tre giorni dopo che aveva preso un appuntamento assolutamente regolare si presenta si salutano tranquillamente come sempre avevano fatto in passato stringendosi la mano fa la visita dicendo esattamente le cose che le aveva detto esattamente il venerdì precedente avendo anche tutta la reazione del collega il quale gli dice esattamente le cose che ha detto venerdì senza che osi il collega di dire ma guarda che noi ci siamo già visti venerdì sostanzialmente e la paziente gli paga la visita con due banconote esattamente le due banconote che gli sembrava aver visto il venerdì stesso dopodiché si salutano piacevolmente amabilmente stringendosi le vano e se ne va in realtà il nostro collega aveva visitato quel mercoledì la paziente ripetendo la visita che lui aveva già fatto il venerdì precedente ma che la paziente non aveva fatto assolutamente il venerdì c'è stato un fenomeno di Vardegra cioè la paziente si è presentata tre giorni prima a fare quella visita che avrebbe fatto in realtà il mercoledì successivo un classico esempio di déjà vu all'incontrario tipico del Vardegra quindi una cosa assolutamente straordinaria per i paesi mediterranei ma vi assicuro che nei paesi scandinavi invece questo tipo di fenomeno fantasmatico è relativamente frequente e in questi casi l'evento è un evento in cui il soggetto appare in carne ed ossa non si fa toccare e oggettivamente tutto ciò che egli lascia o comunque contamina nell'ambiente scompare perché in realtà tutte queste cose qui avvengono soltanto nella mente del soggetto con cui è a contatto con il fenomeno di Vardegra sostanzialmente questo per dire che esistono quindi tante categorie diverse di eventi fantasmatici da quelli più banali sensazioni anche se sono verace veritiere ad altre situazioni in cui oggettivamente c'è l'apparenza di qualche cosa che però è molto fragile a situazioni fantasmaticiche invece molto durevoli che possono quindi essere estremamente interessanti perché possono durare anche uno spazio di tempo che dal punto di vista di chi subisce il Vardegra possono essere anche di 20, 30, 30, 40 o 50 minuti sostanzialmente anche se poi in realtà la tempistica del Vardegra è una tempistica relativa al soggetto che ha questa sensazione ma non è quella tempistica perché nell'esperienza del Vardegra scandinavo spesso si scopre che quello che per il soggetto sembra essere un episodio che dura 30 minuti in realtà per soggetti esterni che hanno potuto osservare gli atteggiamenti del soggetto che subisce il Vardegra in realtà possono durare anche meno di un minuto cioè il soggetto che vive il Vardegra lo vive come un episodio che dura tanto tempo 30-40 minuti mentre per soggetti esterni che osservano il soggetto che fa queste strane cose ma che senza sapere che quel tale sta vivendo il Vardegra dicono invece che questo episodio è durato un minuto o anche meno di un minuto quindi c'è proprio una situazione di entanglement a livello proprio di fisica quantistica per cui la tempistica di chi vive l'episodio non è la tempistica del testimone del soggetto che osserva l'episodio che sta vivendo quella data cosa e di questi episodi ne ho anche di più consistenti e più eclatanti però magari volevo sentire il parere di qualcuno di voi queste cose tra l'altro non sono assolutamente recenti sono cose molto antiche perché gli episodi fantasmatici i più vari da quelli più semplici a quelli più complessi sono esempi che noi troviamo nelle saghe cinesi antiche nelle saghe indiane c'è tutta una letteratura greco-romana in cui si raccontano episodi fantasmatici più o meno consistenti e molto interessanti dall'Iliade in cui appare il fantasma di Atena che prende le sembianze di Deifobo quando c'è il duello fra Ettore e Achille nel ventiduesimo libro dell'Iliade a situazioni come quello che ha cambiato la storia dell'impero romano in Macedonia quando Bruto incontra il suo cattivo demone ma daimon è il termine che usava anche Socrate per indicare semplicemente la sua componente intuitiva e creativa di se stesso che gli annuncia che ci rivedremo a Filippi dove appunto Bruto l'uccisore di Cesare verrà sconfitto da Cesare Ottaviano Augusto che inizierà quindi la sua scesa come imperatore dell'impero romano stesso ora qual è l'ipotesi che in qualche modo con Massimo avevamo un po' proposto a riguardo su questi fenomeni l'ipotesi non è che sia qualcosa di esterno che viene dentro di noi ma è qualcosa che in qualche modo dentro di noi cioè nel nostro inconscio suscita la possibilità di percepire la cosa tipo soffocamento o di addirittura far sì che il nostro inconscio sia in grado in qualche modo di riprodurre delle immagini che possono essere riconoscibili dal nostro dal nostra mente logico-razionale cioè in qualche modo i fantasmi in questo caso sono frutto del nostro inconscio sono frutto di noi stessi sono frutto di qualcosa dentro di noi che trova finalmente la possibilità di evidenziarsi in termini immaginifici in termini visivi al punto che la nostra mente logica razionale li può analizzare correttamente sono quelle che Patanjali in India parla di sidbi cioè poteri particolari che alcuni soggetti come i fakiri possono in qualche modo evocare dentro di sé in termini consapevoli ma che possono avvenire anche in persone assolutamente normali e non fakire in modo del tutto inconsapevoli in alcuni momenti peculiari della vita in alcuni momenti peculiari anche a livello logistico del soggetto che sta vivendo e che sono frutto sostanzialmente della capacità della nostro della nostro inconscio di diventare immagine sostanzialmente e quindi diventare qualche cosa che ci dà la sensazione di quello che è successo di quello che succede o addirittura come nel Vardegre di quello che succederà come se appunto come dice Jung si riuscisse tramite questo potere questa sidbi di entrare in contatto con l'inconscio collettivo e quindi di trovare soluzioni in cui non c'è tempo spazio e siamo anche in grado in qualche modo di vedere appunto il futuro sostanzialmente ecco questi sono un po' i canovacci che avevamo un po' messo nero su bianco prima di non terminare questo libro perché appunto le case editrice dell'epoca siamo 15-20 anni fa non erano interessate alle guardie o anzi spero che questa chiacchierata possa in qualche modo smuovere le acque magari destare interesse a qualcuno che ha a che fare con qualche case editrice e poi riuscire magari finalmente a riprendere in mano questo progetto e quindi elaborare poi finalmente questa inchiesta sui fantasmi magari con un titolo un po' più più attirante più intrigante più interessante e farlo diventare qualcosa di fruibile per tutti sostanzialmente se qualcuno vuol dire qualcosa ovviamente può parlare io volevo chiederti due cose la prima queste testimonianze come le avete raccolte le abbiamo raccolte sezionando selezionando tutta una serie di racconti ma parlo di decine e decine di racconti fino ad arrivare poi a elementi che potevamo controllare da persone ovviamente che facevano parte di ambienti sanitari e quindi in qualche modo sapevano anche che esistono problematiche di tipo neurotico psicotico o quant'altro o situazioni disagiate che possono influire su queste situazioni e quindi potevamo in qualche modo verificare tutta una serie di fatti verificammo per esempio che effettivamente in quella casa quel famoso assassino era avvenuto verificammo che quel soggetto effettivamente era deceduto lo stesso momento la stessa ora in cui quella la moglie era stata accarezzata durante la notte verificammo che quel soggetto aveva avuto quel déjà vu all'incontrario del Vardegre in particolare perché aveva ripetuto la stessa vista concettualmente e la paziente non aveva avuto invece nessuna sensazione e ovviamente negava completamente di essersi fatta viva prima di quel martedì con quella telefonata mentre quel soggetto in realtà visse in quel martedì quello che aveva vissuto esattamente tre giorni prima sostanzialmente benissimo la seconda domanda riguarda invece il fatto tu hai detto che chi ha queste esperienze di fantasmi di manifestazioni in realtà non corre nessun pericolo però allora innanzitutto non corre nessun pericolo nel momento stesso in cui ha la visione però può avere un riferimento per esempio Bruto nel 42 avanti Cristo mi pare di ricordare quando incontrò il suo cattivo demone non ebbe uno svantaggio immediato dal fatto di che vide questo cattivo demone che gli preannunciava l'incontro a Filippi dove sarebbe stato sconfitto però gli preannunciava qualche cosa che sarebbe successo poi in futuro perché ad esempio questa signora questa 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 dottoressa che va in questa casa e che dice no non la prendiamo perché ha questa sensazione però sente una sorta di comunque bene non deve essere stata no però qui vede un fantasma non subisce un danno reale si ecco materiale però evidenzia un danno di qualcos'altro io per esempio ti faccio proprio un esempio mio personale rammento perfettamente quando andai fare un corso di ecografia oculare al Murphy's Eye Hospital di Londra la notte prima io ero sul lago di Como all'ultimo piano di una villa d'epoca di famiglia e io fui svegliato improvvisamente del notte per una immagine ovviamente fastidiosa di un bambino sofferente che presentava due leucocorie sono un oculista leucocorie significa due occhi bianchi perché si era formata una cataratta complicata bianca che quindi impediva ovviamente la visione io poi andai a Londra al Murphy's Eye Hospital e così via ovviamente io fui in disagio però non mi successe nulla andai a Londra facci un mese a Londra sull'ecografia oculare non mi capitò assolutamente nulla anzi fu un mese assolutamente piacevole conobbi persone piacevoli così via ma al ritorno seppi che quella notte in cui io ebbi quella visione era morto l'unico figlio del mio primario di oculistica quindi comunque cose spiacevoli uno poi alla fine un po' lo dico ma non sono dirette a te sono legate a qualcosa che però riguarda altre persone anche se in qualche modo direttamente indirettamente sono legate alla tua vita insomma sono legate al tuo presente perché io l'ho messo anche in un video che si può trovare questo mio canale però sinteticamente ho avuto diversi episodi ma uno in particolare uno è stato fra virgolette piacevole diciamo così perché poi mi sono resa conto che ho potuto aiutare la mamma di questo ragazzo che era morto quindi non ho avuto un disagio né nel momento in cui ho avuto l'apparizione né dopo pur sapendo che questa persona era morta però ho aiutato la mamma a tranquillizzarsi ma moltissimi anni fa con il mio primo marito eravamo a Marghera ultimo piano quindi tornano classico esatto e noi abbiamo dovuto lasciare quella casa che avevamo preso in affitto temporaneamente perché tanto poi dovevamo andare poi a stare a Firenze perché il mio ex marito era violinista lavorava alla Fenice poi avrebbe dovuto spostarsi quindi abbiamo detto vabbè Venezia è molto cara prendiamo una casa a Marghera perché tanto per questi pochi mesi noi eravamo giovanissimi quindi insomma era uno stipendio unico insomma prendiamo questa casa arredata e dovevamo tenerla fino a settembre ci siamo stati due mesi perché mentre eravamo lì c'erano degli episodi in cui io sentivo lui che mi chiamava e invece io non mi chiamava lui sentiva me che lo chiamava e invece non chiamava cioè io non lo chiamavo il cane continuava a fissare una tenda e guaiva perché gli animali alcuni sono sensibili non tutti io ho avuto più cani alcuni proprio non si accorgono di nulla altri invece sono molto ma poi soprattutto noi eravamo diventati proprio energeticamente parlando incattiviti eravamo uno l'uno contro l'altro ma proprio incarogniti non riuscivamo più a dormire e una sera quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso il mio ex marito si sente praticamente aveva la testa appoggiata sul cuscino e sente grattare sotto il cuscino tant'è vero che si gira pensando che fossi io io stavo dormendo quindi ha sentito questo rumore io invece vicino a uno sgabuzzino l'unica ecco c'era uno sgabuzzino in quella casa la proprietaria che era la figlia dei proprietari che erano morti ci disse potete usare tutto quello che volete ma non questo sgabuzzino qui c'è la chiave e la tengo io la chiave perché nello sgabuzzino ci sono delle cose che ancora non ho messo via dei miei genitori eccetera eccetera io però all'altezza di quello sgabuzzino ho visto un'immagine non chiara era come un ectoplasma non era un tipo quindi tutte queste cose qua abbiamo detto senti qui c'è qualcosa di strano noi eravamo all'ultimo piano sopra c'erano solo delle soffitte sentivamo un cane guaire abbiamo detto cavolo ma qualcuno ha chiuso un cane non c'era nessun cane non c'era cane certo quindi io cosa faccio chiamo mia mamma che era a Torino e mi dice venite che ti faccio parlare con un prete che so che è esorcista gli spieghi questa cosa noi spieghiamo tutto quello che è successo e lui senza che glielo dicessimo noi ci dice ma siete più aggressivi l'uno con l'altra e noi abbiamo detto sì dice vabbè allora questa casa se voi non l'avete comprata se non avete grandissime esigenze di doverci stare lasciatela perché c'è qualcosa di molto negativo c'è uno spirito negativo non ci sono delle negatività il mio il mio ex marito poi chiede a questa noi lasciamo la casa ovviamente la figlia non è che fosse molto contenta però allo stesso tempo non c'era una parsa poi così stranita se devo essere sincera prima cosa seconda cosa il mio ex marito prima di dire che lasciamo la casa dice ma a me servirebbe quello sgabuzzino perché devo mettere il violino e robe varie dice no no perché lì c'è ancora il fucile da caccia di mio papà il che spiegava i guaiti che noi sentivamo perché il padre aveva il cane da caccia comunque noi abbiamo lasciato quella casa lasciata quella casa abbiamo continuato la nostra vita tranquillamente senza essere poi tra l'altro così incarogniti uno con l'altro eccetera ora è vero che fisicamente non ci è accaduto nulla però il disagio c'è stato sì però questi disagi devono essere studiati e possono essere studiati ti faccio un esempio che proprio calza esattamente sul tuo racconto ed è un esempio antico perché ne parla Plinio il giovane Plinio il giovane in un suo testo racconta della casa infestata dei fantasmi che fu liberata dal filosofo Apollo d'oro cosa succede succede che esiste ad Atene una casa infestata da fantasmi la gente come appunto è capitato a voi entra in questa casa ci sono questi suoni latrati di cani la gente si incattivisce l'una con l'altra appaiono queste forme che sembrano abbastanza irritate con strascico di catene con rumori particolari la gente non dorme di notte e così via questa casa viene quindi abbandonata e viene abbandonata da un proprietario un secondo proprietario un terzo proprietario un quarto proprietario finché a un certo punto questa casa diventa famosa ad Atene come la casa infestata dai fantasmi finché arriva il filosofo Apollo d'oro il quale una volta reso edotto di questo di questo episodio della casa infestata dice ci penso io ed entra nella casa infestata dai fantasmi e anche lui inizia ovviamente a vedere e a sentire questi suoni queste trafili catene e così via ma invece di irritarsi invece di spaventarsi invece di fuggire resta continua a restare ed esplora la casa e cerca di avere un rapporto con queste immagini e pian piano quindi queste immagini incominciano ad avere fiducia di questo filosofo quindi queste immagini cominciano a diventare più dense incominciano a diventare più visibili e pian piano un'immagine in particolare legata a delle catene particolari lo porta in un certo luogo della casa in una certa stanza della casa indicandogli un punto particolare del pavimento Apollo d'oro quindi si accogge in questo punto segna questo punto e tutto questo avviene dopo due o tre giorni di lavoro di Apollo d'oro probabilmente non è una cosa che capita improvvisamente e dopodiché lui parlando con i magnati di Atene dice che bisogna scavare nel punto che era stato segnato dal fantasma in questa casa e i magnati quindi permettono di scavare in quel punto e cosa scoprono? Scoprono un cadavere un cadavere incatenato il quale il quale viene invece poi deposto in modo umano in un normale cimitero e la casa infestata dai fantasmi viene liberata da questo fantasma che era stato evidentemente incatenato e murato vivo al di sotto di un pavimento quindi come vedi è chiaro che tu sei a disagio rispetto a queste anche perché sono episodi ed eventi oggettivamente imprevisti imprevedibili e che ti angolano ma a te non succede niente e se se vengono studiati in modo come dire scientifico come fece Apollo d'oro in questa casa infestata dai fantasmi cosa è riportata da Plinio il giovane ecco che si scopre il problema che ha determinato tutto questo insomma probabilmente in quella casa era successo qualche cosa di grave probabilmente in quella casa era successo qualche cosa che non era stato in qualche modo come dire esorcizzato come appunto diceva il prete correttamente e come tale quindi sarebbe rimasta tale e quale finché non fosse stata liberata in qualche modo da qualche parte insomma questo è così infatti io anche se all'epoca era molto giovane però avevo già avuto delle manifestazioni nella casa dei miei genitori quindi un po' l'avevo anche un po' intuito cioè perché poi ti persuasci queste cose però sinceramente non mi ero sentita di approfondire capisco insomma certamente avevo questo disagio e sapevo che questa persona sicuramente aveva un disagio questa persona questo trapassato insomma certo però non me l'ero sentita all'epoca di comunque sì è vero la cosa interessante è che quindi noi pensiamo ai fantasmi come qualcosa di esterno a noi che ci capita che ci si offre e invece no invece i fantasmi sono qualcosa che dentro di noi riesce a trovare la via per diventare apparenti alla nostra mente logico-razionale e quindi è una modalità interna di un potere interno che qualcuno è in grado di elaborare consapevolmente grandi saggi come i grandi fakiri i grandi siddi descritti da Patanjali per esempio mentre per noi che non siamo dei grandi saggi e non abbiamo questi siddi possono però avvenire spontaneamente in particolari situazioni psicologiche in particolari situazioni logistiche in particolari momenti in cui siamo in grado appunto di dialogare con noi stessi o perché costituiscono per noi dei messaggi importanti per il nostro futuro a volte però succede che due persone contemporaneamente vedano cosa a volte nella stragrande maggioranza dei casi capita questa manifestazione capita a una persona però a volte succede che entrambe le persone vedono la stessa cosa si può succedere anche questo può succedere anche questo e il concetto di questa visione dei fantasmi a me fa venire in mente il concetto proprio degli dei a mio avviso gli dei gli antichi dei greci esistono perché gli antichi dei greci non sono altro che una manifestazione oggettiva di una capacità creativa intuitiva del nostro inconscio che trova breccia nel reato cose che probabilmente per gli antichi erano logici e che per noi che siamo molte più scientifici molto più logici e razionali degli antichi sono molto più distanti molto più illogici molto più rari ma se noi andiamo a scartabellare i testi antichi scopriamo che il fatto che l'umano il banale il banale umano entra in contatto con gli dei è una cosa molto molto facile molto semplice per noi entrare in contatto con i santi e con Dio è una cosa particolare proprio dei grandi santi e così via invece nell'antichità era una cosa quotidiana una cosa quotidiana che apparteneva a tutti tutti potevano incontrare la De Atena o Giove o Mercurio o Saturno o quant'altro perché in realtà questi dei non erano qualcosa che dall'Olimpo scendevano in noi dall'esterno ma erano qualcosa che il soggetto era in grado di suscitare fuori da sé perché potesse contribuire a parlare meglio con se stesso in senso positivo e in senso negativo in senso positivo nel senso che gli annunciava delle cose positive come avviene a Odisseo nell'Odissea più volte nell'incontro con la sua Dea Protettrice il suo Buon Daimon quello di cui parla anche Socrate che parla sempre del suo Buon Daimon il quale Buon Daimon gli dice chiaramente se la persona che ha di fronte è una persona che sarà malevola o benevola nei suoi confronti indipendentemente dal fatto che dica una cosa o che dica l'altra altre volte è un cattivo Daimon come quello che incontrò Bruto appunto prima di Filippi o quello che incontra Ettore prima del duello con Achille perché anche lì Ettore incontra il suo cattivo Daimon Atena che protegge Achille e sfida Achille convinto dal fratello Deifobo di entrare in contatto nel duello con Achille perché ce la può fare perché il fratello Deifobo è al suo fianco con due lance ma Deifobo in realtà non c'è con lui è Atena che si è trasformato in Deifobo è Atena che fa finta di dargli una lancia che lui scaglierà sullo scudo di Achille e fa finta di avere una seconda lancia ma quando poi Ettore ha bisogno della seconda lancia non c'è più e viene ucciso da Achille ma è un problema in cui comunque il nostro incolso ci dice già quello che succederà in bene o nel male nel nostro futuro questa è una cosa che era comunissima tra gli antichi ed è rarissima invece tra di noi ma gli dei esistono ancora e il concetto proprio di dire noi oggi diciamo io ti amo perché mi sono innamorato di te mentre invece l'antico greco diceva ecco che Eros ha scagliato una freccia nel mio cuore quando ti ho visto c'è una situazione in cui il nostro ego logico scientifico ha ucciso gli dei mentre invece gli antichi gli dei erano compresenti e quindi parlavano con loro inconscio con molta più facilità rispetto a noi noi questi episodi sono molto rari anche se uno ve lo posso raccontare però un tempo erano assolutamente comuni a tutti ma lo sarebbero ancora oggi se soltanto noi lo sono ancora oggi io sono stato io sono stato assolutamente testimone e poi magari chiudo perché poi se no la nostra chiacchierata diventa troppo noiosa con un episodio proprio di questo tipo che ha annunciato in me tutto quello che sarebbe successo entro certi limiti con una certa persona in cui quindi entrai in contatto con un dio che in realtà ero io che avevo formulato davanti a me tutto quello che mi sarebbe successo in una certa situazione particolare ma è stato l'unico episodio mio di incontro con un dio sostanzialmente di altri non ne ho mai avuti insomma però l'episodio è intrigante interessante perché ha anche un suo lato comico e a me piace molto sempre poi inficiare le mie questioni con il divertimento e un po' di comicità perché tramite il divertimento e la comicità questo ce lo insegnano anche i sufi o le storie sufi che si può illustrare meglio una situazione e si può meglio insegnare e relazionarsi meglio con gli altri la storia è assolutamente vera io tengo una conferenza parlo di 8-9 anni fa più o meno 10 anni fa diciamo così tengo una conferenza con Rizza in Milano e come sempre succede quando prima del covid ci sono poi i momenti di pausa c'è sempre qualcuno che viene ovviamente a parlare col conferentiere per fare qualche domanda che non vuole fare in pubblico sostanzialmente quindi io nel primo step della mattinata vedo che arriva verso di me questa signora dal forte accento romano bruna grassottella simpatica la quale si 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 complimenta con la mia conferenza dicendo che la mia conferenza è molto interessante e soprattutto sarà molto interessante e importante per una sua amica che è lì presente che sta vivendo uno stato d'animo particolarmente difficile perché si è appena lasciato col suo fidanzato perché vive uno stato emotivo in questo momento difficile ma sicuramente questo tipo di conferenza avrà dato delle idee particolari a questa signora tale per cui questa signora sicuramente riuscirà a venire fuori da questo stato di disagio depressione in cui è mentre mi parla di questo io ovviamente ringrazio e poi questa signora che comunque si presenta di fronte a me ma mantiene il distacco e non si fa toccare a un certo punto dice adesso me ne vado perché sta arrivando lei probabilmente le chiederà qualcosa e lei si va via scompare e si presenta questa seconda signora la quale si complimenta con me di questa situazione e mi racconta che questa conferenza sta creando nel suo cervello delle situazioni molto particolari e sta vivendo quindi uno stato di energia positiva che sicuramente sarà in grado di farlo uscire da uno stato e mi racconta esattamente le stesse cose che mi era stata anticipata dalla sua amica non ve la faccio troppo lunga passano un paio di anni da questo episodio passano un paio di anni io sono a casa di questa signora che nel frattempo è diventata un'esperta di Enneagram è diventata un'insegnante di Enneagram tramite l'Enneagram è uscita da una situazione difficile e quant'altro e mi annuncia che questa sua amica romana che con cui che da tanto tempo che non vede e così via sta venendo a Milano e sta venendo a Milano e quindi si troverà e così via e io quindi dico ah ma certo la conosco benissimo è quella signora che racconta è quando è quando tu hai fatto il primo il primo seminario di Enneagram e così via e lei mi guarda come si guarda uno scimonito dicendo no assolutamente no è da tre quattro anni cinque anni che io non vedo questa signora con cui questa amica con cui ho fatto questa corso di cucina e ci diceva siamo in contatto telefonico ma lei non è mai venuta a Milano a trovare ma scusa ma non era venuta anche con qualcosa no assolutamente no e io resto sulle mie in totale perplessità questa signora si presenta ed è esattamente quella signora romana che avevo visto due tre anni prima è identica proprio come espressione come modo di fare come aspetto come accento identica assolutamente identica e si presenta ci stringiamo la mano e così via e dice ah sono qui a Milano eccetera eccetera e noi non ci siamo visti dico io ingenuamente ma cominciavo già a sospettare qualche cosa non ci siamo visti per caso due tre anni fa corsa a seminario di Enagramme e così via e le due signore si guardano e dicono no è la prima volta che vengo a Milano io non sono mai stato a Milano in vita mia e quindi la cosa è finita così ho fatto la figura dello scimunito ma naturalmente l'ho fatto una volta sola una volta e mezza sola e non ho proseguito ma io ho incontrato un dio che o una dea che mi aveva in qualche modo annunciato che sarebbero successe una serie di cose una serie di cose una serie di cose e altre cose non ve le raccontate ma sono poi successe puntualmente nei confronti della seconda signora che poi si presentò puntualmente fu l'unico episodio in cui nella mia vita in cui in qualche modo per motivi sciamanici non so come come spiegarli entra in contatto con una dea che mi aveva mi avrebbe annunciato qualche cosa rispetto al mio futuro e al futuro anche di quest'altra persona sono cose che succedono talvolta succedono anche magari più frequentemente di quanto non pensiamo se non abbiamo una verifica perché se io non avesse avuto poi questa verifica di questa signora romana che effettivamente venne a Milano per me quello sarebbe stato un episodio che sarebbe rimasto assolutamente ignoto e sepolto per tutta la vita senza problemi perché io poi in seguito questa signora romana non ebbe mai occasione di rivederla e se non avesse avuto quell'occasione quella giornata quell'episodio sarebbe rimasto ovviamente sepolto nella mia memoria e sarebbe completamente scomparso quindi a mio avviso è possibile che noi ogni tanto entriamo in contatto con gli dei senza saperli e senza che lo sapremo mai sì possibile certo questo lo lo condivido mi sento di così ha intuito a dire che sì che potrebbe sì detto questo se qualcuno di voi ha delle domande o se vuole intervenire se ha delle sue esperienze certo io ho avuto una mamma adesso è mancata da quattro anni e fra l'altro era imparentata con Maurizio si chiamava Cusani anche lei e ogni tanto faceva questo sogno di una maschera come una maschera che la spaventava lei sapeva che era la morte nella sua immaginazione la sovrapponeva alla morte e da quel momento si metteva a cercare nel correre della sera nei necrologi e immancabilmente delle volte due giorni delle volte tre delle volte un giorno scopriva che era mancata una sua amica o un suo amico questo qui è sempre successo quindi me l'hai fatto venire in mente col sogno che hai fatto tu sì prima di andare in figlio del mio primario sì è una precisione era molto preciso poi c'è successo questa da pochi mesi una cosa che non so se catalogare in questo fenomeno che non c'è assolutamente spaventato è successa a mia moglie a dire la verità era a casa seduta su una poltrona sente aprire la porta dell'ascensore perché noi entriamo in casa direttamente fa un cigolio particolare nostra figlia che va in corridoio si gira subito a corridoio i fenomeni di bilocazione sono fenomeni molto diffusi per esempio tra i santi cattolici per esempio San Padre Pio era famoso per avere episodi di bilocazione quindi era compresente a San Giovanni Rotondo e contemporaneamente che so a Fidenza a San Giovanni e così via magari per parlare con un sofferente o per guarire un sofferente e quant'altro i episodi di bilocazione sono molto famosi anche nella letteratura antica per esempio a Polladoro di Tiana per esempio le Sidi appunto indiane e quant'altro ma le bilocazioni possono capitare spontaneamente anche a noi è capitato per esempio in diverse occasioni di subire di avere delle testimonianze in cui un soggetto vede quella quella data persona in quel dato luogo e tende e cerca di parlare con questa persona e si sa che quella persona in realtà è in un ruolo completamente diverso nei casi però di inconsapevolezza normalmente la bilocazione fa sì che quel soggetto che appare inconsapevolmente in un altro in un altro ambiente non risponde non si fa toccare non 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 interloquisce viene visto avviene la bilocazione viene visto ma non interloquisce con l'osservatore tra l'altro questo tra l'altro mi fa venire in mente anche un'altra cosa curiosa pensate ai Vangeli nei Vangeli c'è un momento particolare dopo la la morte di Gesù in cui lui appare alle donne nel santo sepolcro e le donne vedono Gesù lo scambiano lo scambiano per qualcun altro o viceversa e c'è comunque l'atteggiamento di questa di questo fantasma nel senso di annunciare la 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 risurrezione di Gesù la presenza di Gesù ma lui non si fa toccare infatti ci sono diversi quadri che illustrano l'apparizione di Gesù alle piedonne nel sepolcro non li metangere non toccarmi non si fa toccare mentre invece in fase molto successiva quando Gesù si presenta agli apostoli e ovviamente Sant'Ommaso rimane estremamente perplesso sul fatto che Gesù possa essere vivo ancora lui si fa toccare invece le ferite e al punto che appunto Sant'Ommaso è ancora oggi viene ricordato come colui che appunto dubita sempre di tutto e poi la famosa fase evangelica tu hai creduto perché hai toccato perché hai visto beati quelli che credono senza aver visto eccetera 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 quindi anche lì ci sono due fasi la fase della bilocazione o la fase dell'evento fantasmatico in cui il soggetto non si tocca e tiene una prossemica elevata e non si fa toccare e l'episodio in cui invece può appunto perché appare in carne ed ossa farsi toccare perché non si fa toccare io ci ho pensato molto con Massimo Biondi su questo secondo me le apparizioni non si fanno toccare perché se si facessero toccare il soggetto l'interlocutore scoprirebbe che non ha di fronte un soggetto in carne ed ossa perché come in certi film tipo adesso non mi viene in mente il nome di fronte a un fantasma come ghost esatto come ghost tu pensi di toccarlo e naturalmente non tocchi nulla quindi rimani ovviamente rimani ovviamente scoraggiato e spaventato il fantasma non si fa toccare per non spaventarti ma il soggetto diciamo che appare contemporaneamente in bilocazione non lo sa il santo lo sa e non si ricorda neanche dopo no 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 il santo lo sa ed è consapevole la persona comune lo fa succede lo vedono ma lui è del tutto inconsapevole della questione e non ricorderà più niente e non ricorda nulla no anche perché lui in realtà è altrove quella è soltanto una sua proiezione fantasmatica di cui lui non ha nessuna consapevolezza la consapevolezza della bilocazione è un potere è una sigdi ed è una cosa che può essere ottenuta solo da personaggi molto importanti però può avvenire anche a chiunque di noi ma in modo inconsapevole e anche nei libidi Castaneda mi sembra sì 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 la bilocazione inconsapevole è molto più diffusa di quanto noi non pensiamo ma questo sarebbe stato un altro capitolo con cui avremmo affrontato con Massimo Biondi il problema della bilocazione e anche perché è un po' complicato anche perché mentre si può arrivo a comprendere la bilocazione dei Santi che appunto si rendono conto perché noi comuni mortali abbiamo una bilocazione neanche mistero mistero è un mistero però succede succede e succede sicuramente io con Massimo abbiamo elencato una serie di episodi di più testimoni che vedono quel soggetto chiaramente lì non interloquisce con loro fa finta di non riconoscerli scompare e in realtà è oggettivamente presente a 200 km di distanza dove è consapevole dove non ha la minima cognizione di essere apparso a 200 km sopra o sotto in altra latitudine bene se c'è qualcun altro che vuole intervenire o che deve dire qualche cosa o ha qualche domanda nessuno beh allora nel caso io ti ringrazio Maurizio perché è stato estremamente interessante ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato grazie a voi e io ribadisco soltanto questo nel mio piccolo che secondo me tutti potremmo avere queste perché è una facoltà ma è una facoltà che non è una facoltà è una facoltà alla nostra portata assolutamente e secondo me è molto più diffusa di quanto non pensiamo e secondo me tutti noi qualche episodio se soltanto dessimo attenzione alla cosa tutti noi almeno un episodio nella vita di questa natura più o meno consistente l'abbiamo avuta o l'avremo ed era una cosa comunissima nell'antichità perché era il contatto con gli dèi ma gli antichi erano più in contatto con gli dèi più in contatto noi abbiamo perso questo contatto sì perché il nostro ego è diventato grosso esatto e quando l'ego è grosso perdiamo il contatto con gli dèi perché perdiamo il contatto con l'inconsso con la nostra capacità intuitiva creativa gli antichi avevano un mio più piccolo e quindi erano più in contatto con gli dèi perché erano più in contatto con il loro inconsso esatto ecco volevo dire mi hai fatto venire in mente mentre parlavi Maurizio al famoso romanzetto di Oscar Wilde il fantasma di Canterville no? sì no noi abbiamo una storia familiare in cui questi aspetti qua sono sempre stati visti come normali tant'è che si narra ma con persone che poi erano estranee alla famiglia che avevano partecipato che una sorella di un mio prozio ha una coppia che avevano perso il bambino piccola in giovane età in modo drammatico e a una certa ora del pomeriggio nella stanza di questo bambino che era chiusa ed era rimasta tale quale sentivano giocare a palla sentivano movimenti vari insomma come se lui fosse stato presente sì e questo questo qua è stato è stato sentito anche da gente estranea non solo dai genitori che potevano essere anche magari troppo coinvolti essere obiettivi io ho dei ricordi quando ero piccola di sensazioni una notte per esempio che me lo ricordo ancora adesso ero perfettamente sveglia e ho sentito dei passi in casa e qualcuno che andava in cucina e versava l'acqua ed era tutto buio no io penso come dici te sì perché noi abbiamo perso il contatto il contatto un po' con il nostro inconscio e abbiamo questa questa razionalità che ci che ci domina per cui ci allontana da tutte queste percezioni esatto che sono su piani diversi con energie diverse sì io per esempio ce l'ho avuta nei sogni più che nella pratica quotidiana anche se poi i miei genitori che sono mancati io delle volte li ho sentiti in casa però sono sensazioni non che li abbia visti eh sì sì proprio la sensazione che ci fossero in certi momenti dicevo sei qua sì perché magari ero da parata a fare cose ma era come se improvvisamente sentissi qualche presenza mentre nei sogni mi è capitato mi è capitato addirittura con la moglie del mio ex compagno che era che era mancata prima che lui stesse con me io non l'avevo mai conosciuta l'avevo vista solo in fotografia però mi è comparsa il sogno e io faccio sempre dei sogni a colori da sempre mentre in questo sogno lei era in bianco e nero me lo ricordo bene era in bianco e nero eravamo io e lui e lei ci parlava e lui le ha chiesto ma come stai e lei le ha detto ma io sto proprio bene ma hai bisogno di qualcosa e lei ha detto no però porto via questi due vasi che non si vedevano nel sogno insomma mi sono scervellata per capire questo sogno e in effetti i due vasi sono due contenitori però ci sono arrivata dopo e praticamente i suoi genitori sono morti poco tempo dopo tutti e due vicini vicini insomma e suo papà dipingeva sempre questi vasi tra l'altro ci sono arrivata dopo che erano due contenitori che rappresentano i nostri corpi perché lei ha detto no no non ho bisogno di niente vedo che sei felice e io porto solo via con me questi due vasi qua e poi altri sogni che ho avuto in passato che poi li ho letti poi nell'attualità che erano tipo precognizioni no sì sì sono i suoi sogni sogni profettici sì sì diciamo robe così che però appunto non avendo più la dimestichezza con queste con questi messaggi poi c'è anche collettivo che dir si voglia non li riesci a leggere se non dopo quando ti succede dici cavoli però l'avevo sognita questa cosa certo e devo dire che me l'hai ricordato che forse fra le sensazioni più comuni che statisticamente avvengono dopo la morte di un coniuge soprattutto di un coniuge amato sono proprio gli odori i profumi quelle cose che rimangono che improvvisamente ricompaiono in certi ambienti in certe situazioni a distanza di giorni dalla dalla morte del soggetto stesso ma non solo a distanza di giorni a me è capitato recentemente adesso dovevo accompagnare mia sorella a fare una visita medica importante e io mentre la stavo raggiungendo perché ci eravamo dati appuntamento lei abita in un punto della città io in un altro pensavo e parlavo con mia mamma e dicevo mamma se ci fossi tu ad aiutarci a fare queste cose sarebbe importante eccetera eccetera bene io dopo che ho detto questa cosa ho fatto dei due passi prima stavo per raggiungere mia sorella ho sentito mia mamma si dava sempre la mustela si struccava con la mustela fortissimo odore di mustela ho detto vabbè te lo sei immaginato andiamo in questo studio medico e vedo c'ero già andata altre volte questa e questa cosa non l'avevo mai vista perché non c'era quella volta lì c'era una sedia a rotelle tra l'altro non di ultima generazione diciamo così l'ultima volta che ho visto mia mamma è stata all'aeroporto di Roma che su una sedia a rotelle era stata portata lei stava da Roma stava tornando a Nizza perché purtroppo stava già molto male il medico l'aveva accompagnata perché voleva tornare a Nizza perché voleva morire a Nizza ed era su una sedia a rotelle esattamente quel tipo di sedia a rotelle quindi due prove cioè due indizi fanno una prova quindi è vero che curiosità come mai a Nizza voleva andare a morire perché la mamma viveva a Nizza oramai mia sorella anche io adesso anche spesso vivo a Nizza molte volte i collegamenti non ce li avevo da qua ma ce li avevo da là da Nizza quando ci sono pensa anch'io sono molto collegato con Nizza per tanti per tanti strani motivi va bene ma questo ne parleremo in un'altra occasione va bene era rimasta con me a Roma perché aspettava che mia sorella tornasse dall'America e io l'avevo tenuta con me perché io vivevo a Roma però ho detto no vabbè adesso Virginia sta tornando in America dall'America voglio vedere lei sapeva anche lei di avere ormai poco tempo insomma una storia molto triste non voglio amorbare nessuno però resta il fatto che quindi all'aeroporto di Roma il medico che l'ha accompagnata per arrivare a Nizza ha avuto una sedia a rotelle perché quando non ti senti bene all'aeroporto ti mettono sempre comunque e quella sedia a rotelle lì io l'ho ritrovata in quello studio medico nello stesso momento per cui io tra me dicevo ma forse la mustela questo odore me lo sono immaginato no perché poi è stata come una risposta sono quelle cose di cui Jung parlava assolutamente dicendo non sono casualità sono sincronie e noi sappiamo che la sincronia è uno dei momenti in cui ecco che noi siamo in grado di colloquiare col nostro inconscio o col nostro inconscio collettivo col nostro con il nostro intuito creativo interno è chiaro che poi gli eventi fantasmatici i fantasmi i sogni profetici le sincronie sono comunque tutti episodi tutti elementi che sono strettamente collegati fra di loro chiaro che poi per noi essere limitati a livello didattico ci è utile poi separarli ma tutto fa parte un po' dello stesso ambito molto affascinante e anche molto difficile per noi esseri normali poter in qualche modo afferrare consapevolmente e compiutamente mi resta solo un'ultimissima domanda perché si manifestano all'ultimo piano? Probabilmente perché all'ultimo piano ci sono particolari energie e particolari elementi conosciuti di elettricità di magnetismo di umidità che riescono a evocare questi eventi mentre invece nei piani inferiori questi elementi fisici non sussistono quali siano questi e quali siano quelli più importanti è questa una cosa che ovviamente noi non conosciamo e che potrebbero essere magari studiati conveniente ma questo fa parte proprio dell'analisi scientifica di questi effetti paranormali forse Massimo nel frattempo qualche cosa di più ha conosciuto o qualche no la cosa curiosa è che io ho provato a ricontattare Massimo Biondi in questi ultimi tempi proprio in occasione di questo nostro colloquio e non sono più stato in grado di ricontattarlo e quindi voglio chiudere così in un modo un po' come dire copico vuoi vedere che anche Massimo Biondi aveva a che fare col mio inconsto e quindi non è un essere reale e tangibile no in realtà no ho testimonianze che Massimo Biondi esisteva è esistito ci ho parlato e ci sono altre testimonianze però mi piace concludere la nostra chiacchierata in questo modo enigmatico e critico per lasciare le cose in qualche modo così up to date ma anche un po' evanescenti insomma mi sembra un'ottima chiusa e con questo ti ringrazio ringrazio tutti quanti voi metterò il video in sul canale prossimamente e vi auguro quindi buona serata a tutti quanti un grande bacio un grande bacio grazie buona serata a tutti grazie ciao a tutti ciao 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 ciao